eccoci qui buongiorno siamo ci siamo un pomeriggio a tutte buon pomeriggio buon pomeriggio siamo qui io sono valentina e lavoro per unique italia e qui con me insieme a me c'è elena vero meriggio a tutti sono elena e appunto lavoro per unique in italia voi non ancora magari non ci conoscete ma questi sono giorni veramente speciali per noi perché perché oggi si dà via a una nostra convention ne abbiamo due una in america e una in europa e oggi parte ufficialmente la convention americana e saranno tre giorni pieni di emozioni mi auguro veramente che voi riunirete a noi che anche voi avrete l'occasione di vivere queste emozioni le nostre convention riuniscono consulenti da tutto il mondo noi siamo presenti in sedici paesi nel mondo inoltre quest'anno benché siamo tutti lontani abbiamo veramente voluto investire molto in questo evento perché è la nostra occasione di rincontrarci anche solo virtualmente abbiamo riunito tantissimi relatori di fama internazionale per offrire dei training fantastici e quello che avviene tutti gli anni in convention è anche una cosa molto emozionante per noi consulenti è il lancio dei nuovi prodotti l'anno scorso io e valentina eravamo a londra abbiamo vissuto appunto alcuni di questi lanci da dietro le quinte alcuni direttamente sentiti dal palco abbiamo lanciato un prodotto fenomenale che è il nostro fondotinta spray che è ancora un best seller e siamo in attesa veramente di scoprire stanotte cosa lanceremo di nuovo e inoltre oltre tutto questo possiamo anche sentire le esperienze di tante nostre consulenti che hanno raggiunto il successo che danno consigli alle altre consulenti ma non ci facciamo mai mai mancare il divertimento con musica comparata con parti virtuali con boot fotografici virtuali anche lì ci siamo scatenate ieri sera e noi vogliamo veramente che questi eventi facciano sentire tutta unique una sola famiglia perché noi siamo un'azienda così vero vale assolutamente e mi verrebbe da dire ma perché siamo un'azienda diversa perché siamo stati fondati nel 2012 quindi comunque relativamente poco poco tempo fa otto anni fa con il sogno di fare qualcosa di grande qualcosa di buono per gli altri infatti se pensate unique unique è una company una mission company first quindi una un'azienda in cui la mission ha il primo posto su tutto in cui il make up e mezzo attraverso il quale sosteniamo una fondazione che si occupa di donne di vitemi di violenza mentre cerchiamo appunto di migliorare potenziare rafforzare l'autostima delle donne di tutto il mondo e infatti appunto la unique foundation è un po il cuore di unique vero Elena certo il cuore pulsante il motivo per cui tutte noi siamo qua appunto per sicuramente migliorare la vita di tante donne per tanti aspetti diversi chi appunto vuole una svolta nella propria vita chi vuole divertirsi chi vuole un hobby chi vuole arrotondare un attimo le entrate mensili ma dietro tutto questo c'è proprio il desiderio c'è stato il desiderio iniziale dei fondatori Derek Melanie e la moglie di Derek Shirena di appunto costruire qualcosa che li aiutasse a realizzare il loro sogno il loro sogno è la unique foundation the unique foundation che proprio durante la convention di questi giorni sta raccogliendo nuove sottoscrizioni mensili cosa fa la foundation la foundation ha principalmente due retreat due rifugi in cui le vittime di violenza vengono accolte per ripartire verso una nuova vita e noi appunto abbiamo aperto di recente il nostro secondo retreat e nei due nostri centri in Georgia e in Utah abbiamo tenuto finora centocinquantaquattro sessioni con eh appunto le sopravvissute alla alla violenza per un totale di tre mila trecento trentasette partecipanti abbiamo veramente la possibilità di cambiare tantissime vite parte della nostra foundation è anche Defend Innocence è eh un'associazione se andate su internet vedrete il sito rinnovato da poco e Defend Innocence fornisce degli strumenti e delle risorse in cui tutti gli adulti, i genitori, i tutori, gli educatori hanno eh bisogno per ridurre il rischio di abusi sessuali sui minori. Questa è una piaga che veramente colpisce tutto il mondo. Noi vogliamo trasmettere il nostro messaggio a più eh persone possibile per e in più culture possibile proprio per cercare di arginare e ridurre questa piaga che veramente colpisce ogni anno, ogni giorno, ogni settimana, milioni di bambini. Giusto Vale? Assolutamente eh solo pochi mesi fa inoltre oltre come anche come iniziativa abbiamo anche lanciato eh in dei gruppi di supporto che si chiamano Finding Hope che sono oltretutto non solo in lingua inglese ma anche in tedesco, in francese, spagnolo anche perché il nostro obiettivo è quello di espanderci sempre di più con appunto tutte le eh eh strutture che si occupano eh non solo appunto di ehm curare ma anche di divulgare. E i gruppi di supporto a Finding Hope oltretutto sono eh fatti, sono formati da persone che a loro volta sono state eh vittime eh di violenza ok? Eh e che quindi con una serie di eh un percorso basato anche su ehm appunto fondato su eh un processo eh diciamo di di guarigione eh aiuta le persone eh anche in altre lingue a eh ritrovare la eh serenità perduta. Questo ovviamente è un grande sforzo e un risultato di cui siamo orgogliosi. Ci sono già stati diversi gruppi avviati in ognuna di quelle lingue che appunto ho detto quindi eh tedesco, francese, spagnolo. Ora abbiamo ben cinquantasette gruppi in sette paesi. Quindi ci stiamo sempre più allargando. Abbiamo anche apportato un'importante modifica per spostare i gruppi di supporto online. Quindi durante la pandemia. Quindi per non interrompere questo tipo di servizio anche durante il periodo del covid che ancora non è finito. E eh speriamo che anche voi vogliate far parte di tutto questo perché anche questo vuol dire far parte di UNIC. Eh vuol dire appunto eh aiutare le persone in difficoltà, le donne che sono state vittime e e quindi eh oltretutto anche ehm diciamo con con dei gesti che possono essere delle donazioni ma ricordiamo anche che lo stesso ricavato eh del dei profitti di UNIC una parte del ricavato viene automaticamente devoluto alla foundation. Certo il dieci per cento dei nostri profitti vanno alla foundation e eh stiamo il contributo che può dare chiunque appunto attraverso l'arrotondamento di un ordine o la sottoscrizione mensile che è importante ma così come sono importanti anche i contributi che danno eh su varie attività le nostre consulenti. Io sono stata veramente orgogliosa questa primavera di vedere quante consulenti italiane si sono offerte volontarie per tradurre tutto il materiale di Finding Hope anche nella nostra lingua e quindi speriamo di vedere presto aperto un gruppo Finding Hope anche in Italia. Quindi noi vogliamo veramente che voi facciate parte di tutto questo sia del divertimento, dell'emozione, delle grandi novità che ci aspettano in convention ma anche del della grande anima che c'è dietro tutto questo. Noi vi aspettiamo, io e Valentina siamo qua, abbraccio aperto ad aspettarvi. Voi potete chiedere o allo consulente che vi ha mostrato questo video oppure semplicemente andando sul nostro sito web www.uniqueproducts.com e lì trovate tutte le informazioni di cui avete bisogno per avvicinarvi al nostro mondo. Valentina io direi che per ora è tutto, dobbiamo andare anche a prepararci per la prima pension di stasera. Esatto, esatto. E vi aspettiamo. Speriamo di vedervi presto con noi nei nostri gruppi, ok, e nella nostra YFamily. Un abbraccio e buona giornata. A presto. Ciao. Ciao.